origeness un progetto che parla di futuro come la parola chiave di quest'anno in integrazione Film Festival, ed è questo lo spazio, l'idea è quella di creare una connessione tra persone, artisti, creando una prospettiva di futuro. Il legionario ha dato modo di parlare anche del diritto all'abitare, a prescindere da come uno la pensi. Per me è stato interessante ascoltare le loro storie, perché questo è un palazzo abitato da diverse nazionalità, quindi non è un palazzo di italiani. Grazie a voi, grazie a tutti i festival italiani, perché grazie ai festival noi arriviamo alle persone, noi il cinema la facciamo per voi, quindi grazie anche a Bergamo per questa opportunità di arrivare al pubblico.